buongiorno sono sicuro che anche tu come me hai il sogno di parlare al tuo smartphone e di avere un documento scritto perfettamente adesso è possibile con speech live tu parli spedisci e fatto appena creato il tuo account speech live sei pronto è necessario solo scaricare la nostra app e cominciare a registrare premi il pulsante rosso è molto semplice la registrazione inizia il potenziometro si sposta e indica che stai registrando come vedi la nostra applicazione è molto facile da usare tutte le funzioni che puoi desiderare da un registratore sono presenti per fermare la registrazione premi ancora il pulsante rosso per spedire seleziona invio scegli il riconoscimento vocale seleziona la lingua tra le 21 disponibili e spedisci il dettato e compresso per tua maggior sicurezza viene criptato e spedito sul nostro server il sistema elaborerà immediatamente la registrazione ritroverà il tuo documento sul tuo account speech live hai sempre la possibilità di riascoltare e recuperare la trascrizione della tua registrazione adesso devi solo registrare un nuovo documento riassumo prima di tutto devi creare un account speech live installa e configura l'applicazione philips dictation registra spedisci al nostro server trova il documento direttamente su speech live oppure sulla tua mail la cosa più semplice è testarlo quindi vai su www.speechlive.com